Filippo, Poluzzi, tanto complimenti per oggi, insomma quel gol non ci voleva, ce lo vorrei raccontare com'è, l'ha vista l'ultimo minuto, la palla? Sì, sì, ha fatto il classico gol della domenica, penso, non l'ho ancora rivisto, però è partita, l'ha presa benissimo, è partita secca, io non l'ho vista partire perché ero coperto dagli avversari dei miei compagni e si è andata nell'angolino. Purtroppo non ci voleva, penso che meritavamo molto di più, ci deve servire da lezione, da insegnamento, che dobbiamo mantenere la stessa atteggiamento, la stessa fame per tutti i 95 minuti, specialmente in questo campionato. Fabio Posini. Jack, da quando è arrivato Bisoli avete conquistato sette punti in tre partite, penso che possa essere un ottimo bottino e continuare così per potervi salvare. Sì, sicuramente il mister ci ha dato tanto in queste tre partite, conosce molto bene la categoria, ha toccato i tasti giusti che avevamo bisogno probabilmente perché i risultati e le prestazioni dicono questo. Oggi c'è sicuramente rammarico, francamente, perché abbiamo perso due punti, non ne abbiamo guadagnato uno. Il percorso è lungo, sappiamo che dobbiamo migliorare e lo faremo da martedì, adesso abbiamo una settimana di riposo mentale, diciamo così, ma ci servirà sicuramente per lavorare e mettere in pratica ancora di più i concetti che il mister ci chiede. Alex. Il mister era molto arrabbiato, no? Il gol. Dov'è che secondo te lì si è sbagliato? Come si poteva evitare? Penso che potevamo far fallo prima, a inizio dell'azione sul cross mi sembra, è uscita a terri spinta questa palla e avremmo dovuto far fallo prima e non lì. È chiaro che si parla di dettagli, ma sappiamo che sono quelli che fanno la differenza. Purtroppo ha trovato questo gran gol, penso che abbiamo costruito tanto, ha avuto tante occasioni da gol, dovevamo sicuramente sfruttarle di più, portare il risultato già sul 2-0 al primo tempo. Perché poi ci può anche stare che ogni tanto puoi concedere un'occasione e possano trovare il gol della domenica, però quando crei così tanto la devi portare a casa. Non puoi stare qui a rammaricarti per due punti. Persi, per due punti persi. L'ultima volta col Como sei stato impegnato molto di più rispetto ad oggi. Sì, sicuramente sono meno impegnato delle prime tre partite, questo è una cosa positiva. Noi dobbiamo continuare su questa strada con ancora più attenzione. Sappiamo che abbiamo 32, mi sembra, partite davanti, sono tantissime. Penso che abbiamo dimostrato che possiamo fare il risultato con chiunque, dipende dal nostro atteggiamento, dalla nostra determinazione. Ogni domenica, come dicevo, adesso è importante staccare la spina. Abbiamo fatto queste prime sei partite, abbiamo capito, abbiamo raccolto comunque sette punti. Pensiamo a riposarci, a lavorare, che ne abbiamo bisogno, soprattutto adesso che è arrivato il mister da solo tre settimane. E poi andremo a Palermo per fare la nostra partita.